Centinaia e centinaia di bambini a rincorrere un pallone in una giornata dedicata al calcio a Polla. Si tratta dei protagonisti della seconda edizione della Fevian Soccer Cup. La manifestazione si è disputata sul prato dell'Antonio Medici il 1 maggio, ma anche negli altri spazi dell'impianto sportivo di Polla, compreso un campo di street soccer allestito per l'occasione dagli organizzatori. L'evento è organizzato dall'associazione sportiva Fevian Soccer Academy e ha visto protagonisti per l'intera giornata i calciatori delle categorie Pulcini e Piccoli Calci. Erano presenti 24 squadre da tutto il comprensorio valdanese e non solo, infatti in campo anche compagini di Potenza e di Salerno e del Golfo di Policastro. In tutto erano oltre 600 le persone che hanno invaso Polla, tra accompagnatori e piccoli giocatori che hanno anche potuto ammirare le bellezze del paese e gustare i piatti tipici nei due ristoranti che hanno ospitato l'evento, si tratta del Belvedere e del Tre Stelle. Soddisfatti ovviamente gli organizzatori che sono già al lavoro per la prossima edizione e per continuare a far sognare i piccoli calciatori del nostro territorio.